Mondo cane, niente posta per me? Insomma, è tutta la settimana che controlli la posta. Cosa stai cercando? Sto aspettando una cosa molto importante. Vuoi dire un altro pacco? Non hai neanche aperto quello che è arrivato una settimana fa? Mondo cane, perché non mi hai detto che era arrivato? Perché lo stavo usando come peso per il cappello. Come cosa? Peso per il cappello. Continuava a volare via e così ci ho messo sopra il pacco per non perdermelo. Ma che assurdità dici, Peter? Tu non porti il cappello e qui non c'è vento. Caro signore, lei mi deve un cappello nuovo.